Pescara non è un paese per giovani. La provincia di Pescara è la peggiore in Abruzzo dove vivere per gli under 35, tra le peggiori in Italia per i bambini. E' quanto emerso da un'indagine del Sole 24 Ore che nella consueta classifica annuale riguardo la qualità della vita ha introdotto gli indici per fasce d'età. La provincia di Pescara è terz'ultima in Italia per qualità della vita dei bambini da 0 a 10 anni, peggio del capoluogo adriatico solo Cosenza e Foggia. Tra gli indicatori il tasso di fecondità, il numero di pediatri, le condizioni di scuole, asili in nido, il verde pubblico e lo sport per i più piccoli. A determinare la pessima posizione in classifica di Pescara però è il numero di delitti denunciati a carico di minori rapportato al numero di quanti sono in questa fascia d'età. E la provincia pescarese in questo è il terribile primato e la peggiore in Italia per quanto concerne la violenza sui minori. Nella classifica generale che riguarda i bambini, Teramo è al 73esimo posto, L'Aquila al 54esimo e Chieti al 41esimo. A Pescara non se la passerebbero bene, secondo il giornale di Confindustria, nemmeno i giovani tra i 18 e i 35 anni. Quella del capoluogo adriatico è la peggiore provincia in Abruzzo, all'87esimo posto, seguita però a breve distanza da quella di Teramo, che è all'82esimo. Meglio Chieti, 72esima, ma la migliore è l'Aquila al 41esimo posto. Tra gli indicatori per questa fascia d'età vi sono i titoli di studio, il tasso di disoccupazione giovanile, i canoni di locazione, la percentuale di coloro che migrano altrove e i numeri dell'imprenditoria giovanile, ma anche i dati su concerti, bar, discoteche, aree sportive, nonché l'età media al parto. Da segnalare il pessimo risultato di Chieti per gli affitti, è 103esima su 107 province riguardo i canoni di locazione ed è 104esima riguardo il gap dei costi d'affitto tra centro e periferia. La provincia dell'Aquila è la migliore in Abruzzo anche per gli over 65, è quarantesima nella classifica generale che riguarda la vita degli anziani. Seguono Chieti e Pescara rispettivamente al 42esimo e al 56esimo posto. Ultime in Abruzzo, Teramo, all'86esimo posto. Tra gli indicatori la speranza di vita, il numero di infermieri e geriatri, l'assistenza a disabili anziani, i dati su pensioni, consumo di farmaci e patologie quali la demenza, nonché i numeri riguardo biblioteche, orti urbani e inquinamento acustico. Pochissimi rapportati alla popolazione sarebbero i geriatri in provincia di Teramo. In questa particolare classifica il Teramano è al penultimo posto, davanti alla sola Pordenone. L'Aquila invece è centoquattresima per la spesa per il trasporto di disabili e anziani.